E' una domanda bomba, chiaramente l'adoro, perché sono italiano e abbiamo una grandissima storia, che ci portiamo sulle spalle, che mi ha aiutato in tutto, nel mio mestiere di attore, perché la cultura nostra ha delle radici... Un tuo regista italiano con il quale ti piacerebbe lavorare o comunque tuo preferito, che prediligi? Uno dei miei preferiti è Paolo Verzi, perché ci ho lavorato due volte con due film, ma il mio nome è Sanino, mi piacerebbe lavorare, è Sorrentino, è bellissimo, è grande. Un tuo piatto italiano preferito? La pasta, specialmente diciamo i piatti pugliesi, fare cicoria... Sappiamo che hai fatto un progetto con Scorsese, ce ne vuoi parlare, dato che comunque Scorsese è amatissimo in Italia, soprattutto per i registi nuovi che comunque si accingono in questo mestiere. chiaro, in tutto il mondo. La prima volta che ho conosciuto Scorsese, ero diciamo un giovane attore, a New York, la sua casting fedele di sempre, Ellen Lewis, mi disse devi conoscere per il film Goodfellas, come si chiama in italiano, questi bravi ragazzi... era una bellissima parte, un bellissimo ruolo, diciamo era il più grande dei piccoli, il padrone del bar, Sammy Bamboo, ma poi alla fine mi dissero che andò a uno che era più grande in realtà. Quasi nel dispiacito, perché poi ne abbiamo accennato quando abbiamo lavorato, mi assoluto, per Boardwalk and Park, la parte del Big Jim Colossino, che tratta la storia, la gerarchia della mafia, come nasce la mafia, durante l'epoca della proibizione, negli anni venti. È stata un'esperienza, ancora vi devo dare dei pizzico per dire, è vero che ho lavorato con questo signore qua, perché è stata un'esperienza fantastica, stava con me la mia compagna di vita, da Virginia, con gli attori fantastici, veramente bravi, Steve Buscemi, Vincent Piazza, bravi attori, gente umile, grandissimi artisti, è stata veramente una bella esperienza. Dunque, tutto e tutti erano molto bravi, dalla serogiatura, anche la produzione, la HPO, l'autore, il regista, è stato un regalo della vita per tutti noi, dunque sarà un'esperienza che non dimenticherò mai. Nella città dove io ho studiato che adoro, diciamo che mi sento sempre di casa, grazie. Grazie Frank per la tua disponibilità, un saluto ai nostri lettori di Italy in the World. Un saluto grandissimo ai vostri lettori di Italy in the World e ai seguitori del grande Giuseppe Cosentino. Grazie mille, ciao, grazie. Grazie. Grazie.